hanno fatto molto discutere i lavori che stanno per essere ultimati presso la residenza napoleonica di san martino a portoferraio in particolare la colorazione giallorosa nella villa principale ha scatenato i commenti sui social da parte di semplici utenti ma anche di persone che si possono considerare veri e propri addetti ai lavori nel campo della storia dell'arte dell'architettura in particolare ha acceso la discussione un posto con un raffronto fotografico pubblicato dall'architetto paolo ferruzzi come hanno potuto mi chiedo su che basi ha commentato gloria peria esperta archivista storica elbana non so che sia il direttore dei lavori ha commentato l'archeologo franco cambi e non so se questo restauro risponda a studi e ricerche pregressi anche se qualora fossero stati quelli colori originali si potevano comunque scegliere dei toni meno elettrici continua e non è detto che la filologia impugnata come una clava sia sempre la scelta giusta se poi non ci fosse stato nessuno studio a monte allora sarebbe veramente grave a fugare ogni dubbio su come fosse realmente la villa ci ha pensato ancora gloria peria pubblicando a sua volta un dipinto che ha ricordato essere la villa napoleonica di san martino raffigurata da giacomo mellini nel 1815 e l'ultima parola in calce al posto di ferruzzi la messa proprio napoleone o meglio l'attore che lo rappresenta in tutte le rievocazioni ufficiali al secolo l'elbano franco giannonio io come padrone di casa ha detto non sono stato interpellato così per essere chiari